Mattia destro, si libera bene di un paio di avversari, cerca di lanciare in profondità, viene da spinta a recuperare la palla, ancora Mattia destro, la palla per Bradley, si fa vedere intanto Piris, lancio di Bradley, attenzione le medie dell'area, attiva di Simone per la Simone, Simone per rotta, Simone per rotta, Simone per rotta, Simone per rotta, sì, sì, Simone sì, Simone sì, che straordinario, che straordinario giocatore Simone, primo gol, primo gol stagionale, quanto sono contento per lui, giocatore straordinario, di una serietà incredibile, esemplare in tutto, giocatore modello, giocatore modello.